Amo! 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 Daici 1270. Questo è un 12.3. Io le farei tanto grosse anche se, per esempio, tu prendi le mosche di Maggio della Nera, le son piccinine rispetto a quelle slovene, in Gasca poi c'è dei legni, però tendenzialmente stiamo sempre sotto, perché se si va a imitare un insetto proprio delle dimensioni, gli si presenta un paracarro così, cioè a forza di roba gli si va e di fuori. Allora, vediamo se riesco a fallere. Chi tu devi guardare la televisione per fare le mosche te? No, dimmelo perché. Dice la ossia. Come la ossia? Spuntatina. Va bene? Spuntatina nel senso di elevare una punta? Spuntatina. Se volete gli mettete due codine corto o tre, tanto a imitare i cerci e la ninfa di facciano. Sotto voglio fare un ricaggino giallo. Ah, l'ha messo qui. Un colpino giallo. No, cambiamo il nostro. Cambiamo il nostro. Foca bianca, dove la trovate? Lo scrittone ce l'ho? Ce l'ho pesato lo scrittone, infatti. Questa in acqua una volta bagnata la diventa trasparente. Bella, bella, bella. Se uno la vuole mescolare le buone con il sugo la foca. poche olive perché diventa amare. Con un po' di Uddecanalde, la po' mescolare con un po' di Uddecanalde. In morata non si dovrebbe fare più di questo. Sono magi. Sono magi. Sono magi. Infatti sono mosche di omaggio. Sono mosche di omaggio, infatti. Il signore è stra-comunitario. È stra-comunitario. Lo sai fra un po' ti direi a due po' le mie più piazza. Fai, fai lo spirito. La scappa del silenzio. Dubbing in pelo di cuore. Gli si ritornano avanti. a due po' di tele. Gli si ritornano avanti. Ok. Sotto. Un soft. La sitiglia. Lì si unisce. La sitiglia. Prendete la soglia. tiri indietro un po' di barbule la ribalta e la ribalta più o meno si tendenzialmente le beige quindi un beige fine ah fine? fine no io sulle mosche da pesca non mi ci rompo ah no? giustamente da una ossa questa lei ce l'ha d'aria che fai che? invece la ossa che tu ti ha fatto ah gliel'ho passato e poi che vuoi fare perché c'è l'ingredente speciale che ne ha c'è la teglia di ossa perché questo te la ti fissa ogni ossa lo fai io un falso di famosche la che va? 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 il cilindino di forma si fa seccare per fuori questo cilicino con tanto di famiglia se si fa su quello beige viene addirittura nero mamma grazie grazie si ha visto tu fatto venire quando trovavo un sacco di gente? ma te non lo fa grazie 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 questa ce l'ho ce l'hai? no io l'ho messa qua con lo stesso wrapping di prima ci lasci sempre foa foa sono partito di lì e sono andato sulla curvatura perchè? perchè lo ribatto ok ok sembra foa no no solo foa o anche ci ho messo anche c'era anche il cuore come quella di qui uguaglio bene c'era c'era cool cool no special ora io ci metto lo scoiattolo ma ci si potrebbe mettere un po' di rosso di? un altro po' di foa un altro colore è tanto per dargli un po' di colore diverso sui toraci lo blendi un po'? eh? lo blendi un po'? lo blendi un po' lo devi un po' di fermo praticamente solo un po' di fermo un po' di fermo di palù cioè dia una macchina buonanotte ma infatti mi ha sempre trovato piuttosto dubbioso belle belle da morire sì belle e basta bravissima non si appena appena si fa un paio di giri intorno e un altro si fa tipo parasciutto si fa un paio di giri intorno e un altro si fa qui in maniera da fermaggio è un maschio papà chi ti puoi sia lei che eh oh bravo no no io lo stavo spiegando io perché non capisce non capisce non capisce c'è un tappo chi vuole qui in questo punto può fare anche un lupino ora noi siamo messi giallo però se lo metti beige in realtà come la mosca di mangio quando esce se uno gli può fare un lupettino con un po' di un po' di un arde giallo che imita l'ala ma questa è che sarebbe la masserella dell'ala che è se lo è un po' più visibile me è garbato sto cincino ce l'ho lasciato se funziona bene se vedo che to' a noi a figli e lo bacio e tri mi entra mi do un morso qui rasta forse a giucciare basta dutza oh bene vabbè te lo ti cazzo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti